Buongiorno, sono Patrizia Rodriguez-Tome della Nure Ideas, stiamo presentando in saluti un ecosistema di informazione dal campo al piatto che è composto di tre software, di Nurtrack, un software di tracciabilità a 360 gradi, dei processi produttivi delle micro aziende dell'agroalimentare, di Nurtrack, un database che stiamo completando di fingerprint dei prodotti tradizionali sardi e di Nureen Food, una piattaforma di sviluppo che abbiamo appena iniziato per mettere in contatto il produttore che ha tracciabilità, che vuole mostrare i suoi prodotti e la trasparenza e il consumatore finale.